Buongiorno a tutti, 7 febbraio, oggi parliamo di inflazione, di quello che sta succedendo tra Wall Street e Main Street, tra il mondo della finanza e il mondo dell'economia reale. Prima però, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale qualora non l'aveste fatto, cliccando sulla campanellina in modo tale da avere gli aggiornamenti in tempo reale e a leggere i miei più recenti articoli sulle 24 ore dove approfondisco più nel dettaglio queste e tante altre tematiche. Il grafico che state vedendo non è casuale, è il grafico del rendimento a 10 anni del Bund tedesco, un rendimento che dopo essere stato per diverso tempo sotto zero a tassi negativi è tornato su e sta tornando su con una violenza importante. Ecco, vedete un po', qui c'è stato il 3 febbraio il Consiglio della Banca Centrale Europea con il quale i mercati hanno appreso che la BCE potrebbe alzare i tassi anche nel corso del 2022, scenario che prima la stessa BCE aveva escluso e guardate che movimento importante, un movimento che riguarda non solo il Bund tedesco, per esempio anche, spostiamoci in Italia, il BTP all'1,81%, sono tassi che non si vedevano davvero da tanto tempo. Ecco, questo è un po' il cuore di quello che vorrei trasmettere di oggi, questa riflessione, questa chiacchierata, infatti vi invito anche a commentare, a capire anche il vostro umore, il vostro sentiment, in riferimento a un paio di tweet che sostanzialmente ho notato, hanno riscosso un importante livello di attenzione, centinaia di like e retweet, ecco perché appunto la considerazione è questa, ecco sembra che c'è qualcosa che non torna, nel senso la BCE ha detto che potrebbe alzare i tassi, il mercato sta già scontando questa frase con un rialzo dei tassi nel prossimo autunno e forse anche due nel corso del 2022, magari una settembre, una dicembre, non sappiamo, però inizia a scontarlo con il rialzo dei rendimenti sui titoli di Stato. Ecco però c'è qualcosa che non torna, nel senso che se io sono un'impresa, ho un'impresa e sto già pagando un'elevata inflazione, come scrive in questo T, attraverso i prezzi alla produzione che sono alle stelle, quindi io imprese sono costretto a comprare le materie prime a prezzi elevati, quindi il costo della mia produzione a monte è già molto elevato, quindi sto subendo una forte inflazione. Oppure io consumatore che poi sto già pagando un'elevata inflazione, alzi la mano a chi non ha ricevuto un aumento della bolletta, chi quando va a fare benzina non ha ricevuto, non vede l'aumento appunto della benzina o anche chi va a fare la spesa e non si è accorto banalmente anche pagando un caffè in giro che i prezzi stiano aumentando. Quindi l'inflazione la stanno pagando già le imprese e noi consumatori. Se adesso aumenta anche il costo del debito, che è un po' lo specchio del rialzo dei tassi, come è possibile evitare la recessione economica, cioè come è possibile evitare che i consumatori abbiano meno potere d'acquisto, meno di quanto già ne abbiano col fatto che c'è inflazione e che quindi se non aumentano di pari passo i salari, di fatti il loro potere d'acquisto scende o anche le imprese, le imprese se si trovano a pagare elevati tassi sul debito o più elevati rispetto a prima, chiaramente già la situazione non è straordinaria, poi c'è questo elemento del costo del debito. Allora questa è la grande domanda che io mi sono posto e ho visto che diciamo appunto non sono stato l'unico a pormela. L'altro tweet che fa pan ban con questo qui è che il concetto di macroeconomia sostanzialmente che vede che i tassi normalmente vanno alzati quando un'economia è in accelerazione, quando la crescita sta aumentando, invece stiamo andando incontro a strette monetarie annunciate dalla Fed e anche dalla BCE in un contesto di rallentamento della crescita in particolare per ciò che riguarda l'Eurozona, ma ci sono dei segnali che potrebbero indicare che anche negli Stati Uniti potrebbe esserci un rallentamento, comunque dai dati macro che arrivano dagli Stati Uniti c'è un po' di divergenza, un po' di discordanza, ci sono alcuni dati che indicano che la crescita sta aumentando e altri invece che lasciano il dubbio su questo punto. Ecco quindi i rischi di un comportamento, di una stretta monetaria che vada a colpire un'economia mentre non sta accelerando, sono sul tavolo per tutti. Andiamo a vedere un po' quello che è il quadro macro dell'Eurozona. Ecco, vedete questi sono i PIL trimestre per trimestre, la crescita del PIL trimestre per trimestre su base annua. Quindi abbiamo avuto nel Q3, il terzo trimestre del 2021, in effetti una piccola crescita rispetto al Q2, più 2,2, più 2,3. Quindi un segnale di crescita. Però poi abbiamo avuto nel Q4, 1 più 0,3. È vero che è sempre un più, ma è un rallentamento della crescita perché venivamo da più 2,3. Quindi l'Eurozona non è al momento, attendiamo di vedere i prossimi dati relativi a Q1 che è in corso di svolgimento. Comunque l'Eurozona al momento non è nelle condizioni di poter digerire dal punto di vista macro un rialzo dei tassi senza che questo possa avere degli effetti collaterali perché normalmente quando le cose vanno bene una banca centrale alza i tassi per fare in modo che l'inflazione non sia troppo elevata perché quando le cose vanno bene l'inflazione arriva prevalentemente dalla domanda. C'è crescita, c'è appunto fermento e quindi i prezzi salgono, ma perché c'è fermento sano, perché c'è domanda di beni e servizi. In questo caso la maggior parte, la fetta più importante dell'inflazione deriva dall'offerta, deriva dall'aumento dei prezzi delle materie prime. Ormai lo sanno anche le pietre e quindi il petrolio è quasi a 100 dollari e quindi questo comporta un aumento dell'inflazione. Non è che vediamo una crescita spumeggiante, quindi facendo 2 più 2 nell'Eurozona stiamo assistendo a un'inflazione che è per lo più dovuta all'offerta e non alla domanda. Negli Stati Uniti il quadro è un po' migliore, nel senso che abbiamo avuto in Q3 uno scenario effettivamente di rallentamento rispetto a Q2, ma poi nel Q4 abbiamo avuto un più 6,9 che ha anche abbattuto le stime, le attese, ha stupito e adesso vedremo come andrà il Q1 del 2022. Però qui diciamo già c'è uno scenario al momento che indica che gli Stati Uniti in teoria sono più pronti a digerire strette monetarie da parte della Federal Reserve, anche se qui ripeto dipenderà molto dai prossimi dati macro. A questo proposito focus molto importante questa settimana, il 10 febbraio giovedì ci sarà il nuovo dato sull'inflazione negli Stati Uniti relativa al mese di gennaio. È molto importante perché gli investitori, ma soprattutto direi in questa fase le banche centrali, stanno aspettando che l'inflazione raggiunga il picco. Ecco negli Stati Uniti abbiamo avuto un picco di inflazione nel mese di dicembre al 7% sempre annualizzato che dimostra appunto che stanno salendo. Se dovesse per ipotesi adesso a nuovo dato relativo al mese di gennaio da poco concluso risultare più basso di questo 7% vorrebbe dire che il 7% di dicembre è il picco o potrebbe essere il picco e quindi da lì gli investitori potrebbero iniziare a ipotizzare che questo problema legato allo shortage di materie prime, questo collo di bottiglia nei paesi di produzione eccetera eccetera che poi a valle si trasforma in inflazione sui prezzi al consumo potrebbe iniziare a essere meno importante e quindi che magari la curva possa iniziare a scendere. Del resto è anche un po' quando si fanno le analisi per il covid, si guarda la pendenza della curva per andare a prendere anche delle decisioni politiche, se la curva è in crescita c'è un discorso, se invece i contagi ci sono ancora ma la curva è in decrescita, in rallentamento allora vuol dire che il picco magari è stato toccato e si possono iniziare a prendere delle decisioni un po' diverse, lo stesso e vale per quanto riguarda le banche centrali, l'economia eccetera eccetera. Quindi è importante concentrarsi su questi aspetti, più che mai in questo momento tassi di inflazione, banche centrali e crescita del PIL, perché se andiamo, ripeto, a alzare i tassi in un contesto in cui un'economia invece sta dando evidenti segnali di rallentamento, rallentamento che è unito all'inflazione, in macroeconomia si chiama stagflazione, una brutta parola, che appunto si spera di affrontare, di non affrontare mai o semmai solo per qualche mese. In ogni caso se ci sono segnali di stagflazione o di rallentamento della crescita andare lì a toccare i tassi è un po' un tema spinoso con degli effetti collaterali che non sappiamo ancora. Quindi la sensazione è anche che le banche centrali, in particolare la BCE, stia prendendo tempo e speri che quanto prima arrivino dei dati più confortanti sul fronte dell'inflazione, sul fatto che inizi questo rallentamento dell'inflazione e che questi livelli possono via via scendere soprattutto legati al fatto che magari migliora il tema del collo di bottiglia, delle materie prime eccetera eccetera. Quindi anche da questo punto di vista bisogna osservare con molta attenzione nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, i prezzi delle materie prime da cui un po' parte tutto questo schema, questa inflazione soprattutto nell'eurozona, prevalentemente ripeto in questo momento da offerta. Ecco perché è un po' un terreno molto minato quello in cui stiamo camminando, su cui stiamo camminando perché appunto di solito si alzano i tassi in condizioni macroeconomiche diverse e invece qui siamo in una situazione un po' particolare. Poi concludo dicendo che una banca centrale diciamo svolge la maggior parte della propria attività di politica monetaria attraverso le parole perché queste parole già di per sé hanno degli effetti al di là che poi alzi o meno i tassi o attui una nuova strategia di politica monetaria e quindi è molto importante considerare il fatto che se la BCE è arrivata a sbilanciarsi dicendo che forse l'inflazione non è transitoria o non è transitoria come ci aspettavamo potrebbe durare un po' più del previsto vuol dire che comunque diciamo sono frasi di impatto perché magari dà l'aspettativa a chi ascolta che di fatti l'inflazione potrebbe continuare a essere alta nei prossimi mesi e quindi magari anche ad aumentare e quindi questo significa che potrebbe essere alimentata nel senso che se io so che fra qualche mese i prezzi continueranno a salire magari anticipo un acquisto di un prodotto che avevo in mente perché magari in questo modo spero di pagarlo un po' meno rispetto a fra uno due tre mesi ecco perché le parole sono molto importanti il fatto che la BCE si sia un po' unita al coro seppur in termini un po' più vaghi di rialzo potenziale del collo della Federal Reserve vuol dire che un po' preoccupata davvero lo è perché sa e consapevole che le proprie parole comunque possono avere anche un effetto sull'inflazione ma ormai non ci si può neanche troppo nascondere di fronte a questi dati e definire transitoria un'inflazione che di fatti da più di un anno non lo è e quindi diventa anche un po' complesso come narrazione come retorica da parte delle banche centrali però la sensazione più forte è che la BCE voglia comprare tempo voglia intanto andare in avanti e aspettare appunto che si normalizzino alcuni dati che forse non sia così costretta poi a mettere mano su livelli di tassi di interesse almeno in modo importante tali che potrebbero essi stessi e questo è un dubbio che riguarda anche gli Stati Uniti e la Federal Reserve eventualmente rallentare o causare una recessione o un rallentamento della crescita perché appunto se i rialzi vengono fatti quando l'economia non è in una fase che sprizza salute quando la domanda non è effervescente ci possono essere effetti collaterali proprio sulla domanda e quindi proprio sulla crescita. Ovviamente questo riguarda anche gli investitori, le conseguenze, le strategie di investimento, le tipologie di asset del portafoglio, tutto ruota e ruoterà nei prossimi mesi a mio avviso in base appunto a questi dati, dati della BCE, della Fed, dell'inflazione e del PIL. Per capire in quale regime economico ci troviamo e come le banche centrali lo stanno affrontando, lo stanno affrontando per potenziarlo o per ridurre i rischi di un'inflazione che ormai non riescono più a controllare, rischiando però di minare e di compromettere la stessa crescita economica andando a gamba tesa contro una domanda sia lato imprese che lato consumatori, soprattutto nella zona che pare comunque in questo momento già indebolita di suo. Alla prossima, buona giornata.